Si terranno la prossima settimana, presumibilmente nella mattinata di martedì, gli interrogatori di Maria Danila Camarda, 43enne di Francavilla Fontana, Carmelo Delisanti, 47 anni di Crispiano, ai domiciliari dalla mattinata di giovedì con l'accusa di turbamento d'asta, falso in atto pubblico per induzione e abuso d'ufficio. I fatti contestati riguardano l'ormai ben noto progetto e finanziamento da 2 milioni e 400 mila euro destinati al miglioramento e alla riqualifica di quartiere musicisti nella città dell'Imperiali, zona indicata a rischio idrogeologico. A finire nei guai, anche l'ex assessore ai lavori pubblici del comune della città dell'Imperiali, Cosimo Mimo Ammaturo, e l'ingegnere e consulente, anche lui di Crispiano, Michele Vinci, denunciati a piede libero. Resta inteso però che i principali indagati restano la Camarda, impiegata comunale presso l'ufficio tecnico e Delisanti, amministratore della Promed Engineering, l'azienda vincitrice di un bando di gara che, secondo il PM, Milton De Nozza, sarebbe stato confezionato su misura proprio dalla stessa Camarda. Dalle numerose intercettazioni telefoniche e ambientali, ma anche degli SMS che hanno caratterizzato una fitta corrispondenza tra i due, emerge come tutti i requisiti per partecipare alla gara siano stati concordati passo dopo passo con tanto di confronti e consigli. Addirittura emerge come la Camarda, demandata alla predisposizione del bando, chiede a Delisanti per quale ragione non si possa predisporre un bando di gara con l'offerta al maggior ribasso di più. Una volta vinta la gara, per far fronte all'assenza del DURC, la Camarda e Delisanti studiano un escamotaggio per aggirare il problema al fine di evitare che la gara venga affidata al secondo classificato. L'ingegnere e la dipendente si accordano quindi per trasmettere una recente richiesta di DURC, secondo un trucchetto che si legge nell'ordinanza. Altro non è, se non un abuso d'ufficio e un falso per induzione. Indicativi, in tal senso, alcuni sms e le intercettazioni telefoniche del settembre 2010, i due, questa la tesi accusatoria, si accordano per trasmettere una recente richiesta di DURC, fatta in relazione alla quale questi dichiarerà di essere in attesa della certificazione in realtà mai richiesta. Successivamente, dopo un mese dalla data di detta richiesta, sfruttando l'istituto del silenzio assenso, si dichiarerà che non è stata rilasciata detta certificazione e che quindi si ritiene assolta la regolarità contributiva. Tu sai, dice Delisanti, che se l'ente non risponde entro un mese, si dà per scontato che «C'è il silenzio assenso», esclama la camarda. «Esatto, io», spiega l'ingegnere, «penso di avere una richiesta di un mese fa a cui non hanno risposto». Due giorni dopo la consegna dei documenti, la camarda comunica a Delisanti che la determina di affidamento è stata firmata, anche senza il DURC, e che il prossimo lunedì si procederà a pubblicare la determina di affidamento dell'incarico. Missione compiuta, insomma, con tanto di ringraziamenti. «Senti», chiede scherzosamente l'ingegnere alla dipendente, «ma hai deciso il posto dove devo mettere la statua per te?» Nessuna dichiarazione, intanto, dall'ex assessore ammaturo. L'ex amministratore, che rassegnò le sue dimissioni nel dicembre del 2010, più volte aveva puntato il dito proprio contro i dipendenti, accusati di non saper svolgere il proprio lavoro. Eppure, secondo il PM, ammaturo, già sindaco di Francavilla, a cavallo tra gli anni 70 e 80, sarebbe complice di Delisanti, soggetto avvantaggiato dai magheggi dell'ufficio tecnico.